In questa puntata di Unicam News, selezionate un laureato Unicam per partecipare a Maker Fair, Carer Day 2015, Start Cup Marche 2015, Unicam al Festival delle Scienze. Questi i titoli, adesso la puntata di Unicam News. A tutti voi ben trovati a questo appuntamento con le notizie dell'Università degli Studi di Cameron. Il progetto di tesi del designer Fabio Rapanelli, neolaureato presso la Scuola di Architettura e Design dell'Università di Camerino nel corso di laurea magistrale in Design Computazionale, è stato selezionato tra i partecipanti al Maker Fair che si è svolta a Roma il 16 e 18 ottobre scorso. La ricerca di tesi, ha dichiarato Fabio, nasce dall'esplorazione di un nuovo scenario progettuale, quello di Internet of Things, un sistema integrato di persone e oggetti iperconnessi tra loro. A questo nuovo paradigma si sta affacciando una generazione in via di apparizione, quella dei nativi digitali puri, la Generation Z. Proprio a quest'ultimi si rivolge Tangret, un dispositivo interattivo dedicato ai bambini dai 7 ai 9 anni per l'apprendimento consapevole delle tecnologie digitali. Grazie ad una docstation e una serie di moduli funzionali che nella forma richiamano il bambino andrà a comporre l'hardware per la prestazione desiderata. In base a come questi verranno connessi, richiameranno delle funzionalità. Il tutto spingerà il bambino a ragionare sulle singole funzioni di componenti e su come il loro utilizzo sistemico costituisca le performance di uno strumento tecnologico. Circa 500 laureati e laureandi hanno preso parte a Carer Day 2015, organizzato dall'Università di Camerino e dall'Università degli Studi di Mascerati, in collaborazione con la provincia di Mascerata. Organizzando il Carer Day, spiega il lettore di Unicam, Flavio Corradini, riteniamo di fornire ai nostri studenti laureati un appuntamento fondamentale di crescita. Oggi sapersi presentare, saperscrivere un curriculum, essere in grado di valorizzare e sottolineare le proprie abilità e le proprie competenze costituisce un valore indispensabile per il primo ingresso nel mercato del lavoro. Il fatto che ogni anno ci siano sempre più studenti e laureati presenti, motivati e interessati a quanto viene loro proposto, ci serve da stimolo per migliorare e proseguire sulla strada intrapresa. Unicam ritiene fondamentale questo tipo di approccio, tanto da dedicare numerose sue attività al placement in uscita, per accompagnare i propri laureati in questa delicata fase di inizio della loro carriera professionale. Questo appuntamento, giunto alla sua quarta edizione, permette ai laureati dei due Atenei di incontrare manager e responsabili delle risorse umane presso gli stand aziendali, sostenere colloqui individuali e di gruppo, raccogliere informazioni relative ai profili professionali richiesti, avere servizi di consulenza personalizzata e consegnare i propri curriculum vitae. Start Cup Marche 2015, la Business Plan Competition riservata a studenti e ricercatori che abbiano brillanti idempi editoriali a contenuto innovativo ed aspirino a costituire un'impresa, anche di tipo spin-off universitario, organizzata dall'Università di Camerino in collaborazione con il Comune di Civitanova Marche e la Camera di Commercio di Ascoli Piceno, la CNA Marche Sud e Fidimpresa, Banca Marche e l'Ordine dei commercialisti di Macerata e Camerino. Presso l'aula magna dell'Istituto di Istituzione Superiore Leonardo da Vinci di Civitanova Marche si è tenuta la cerimonia di premiazione dei vincitori ai quali sono stati assegnati i tre premi finali del premio speciale GESCON, tutti sotto forma di contributo per l'innovazione ad utilizzare esclusivamente per la realizzazione del progetto presentato. Inoltre il pubblico intervenuto ha potuto assegnare il riconoscimento Startupper of the Day scegliendo uno dei progetti presentati. La Startup Marche è l'unica nella nostra regione ad essere accreditata dal premio nazionale dell'innovazione promosso dall'associazione PNA Cube, l'associazione che riunisce gli incubatori e le Business Plan Competition accademiche italiane. Le tre idee progettuali vincitrici entreranno dunque in competizioni con i vincitori della Startup di altri atenei italiani partecipando di diritto all'edizione 2015 del premio nazionale dell'innovazione che si terrà a Cosenza nella prima settimana di dicembre 2015. I tre vincitori nell'edizione 2015 sono Limix, Biovel Block e Art & Co. Si svolge in questi giorni a Genova il Festival della Scienza, punto di riferimento per la divulgazione della scienza e un'occasione di incontro per ricercatori appassionati, scuole e famiglie. È uno dei più grandi eventi di diffusione della cultura scientifica a livello internazionale. Anche il Museo delle Scienze di Unicam ha partecipato al Festival presentando l'Ascolta Luce, una rivisitazione arricchita e resa esponibile di un componente dell'Exbit della mostra che nei mesi scorci è stata dedicata dall'Università di Camerino alla missione Rosetta. L'installazione e la relativa attività didattica nell'anno internazionale della luce e delle tecnologie legate alla luce parla delle onde, in particolare di quelle luminose, e di come ascoltarle con un speciale sensore. L'installazione resterà a Genova per tutto il periodo del Festival e sarà visitabile da tutte le scuole che interverranno fino al primo novembre. E con questo è tutto, vi salutiamo, vi diamo appuntamento al prossimo mercoledì, ovviamente alla stessa ora. Vi ricordiamo che potete trovare altre notizie sull'attività dell'Università degli Studi di Camerino sul sito internet www.unicam.it. Buona serata.